Io ho soltanto il compito di ringraziare prima di procedere alla firma. Intanto ringrazio la signora Prefetto che ci ospita, le do la mia solidarietà perché a forza di essere qua le sto distruggendo le domeniche e non soltanto le domeniche ma la sua gentilezza e la sua accoglienza oltre che il lavoro molto serio che lei e i suoi collaboratori state facendo è un lavoro che riempie di orgoglio il nostro Paese e le istituzioni. Ringrazio ovviamente tutti i protagonisti di questo accordo non soltanto il sottosegretario De Vincenti. Sono 15 accordi, vi ricordate la discussione sul sud, mezzogiorno, grande discussione nel momento master plan e poi impegni concreti. 15 accordi, sono 8 regioni e 7 città. Siamo a buon punto, se non ottimo punto, a conclusione su 13 su 15. Stiamo parlando di tutte le regioni del mezzogiorno e delle città metropolitane più Taranto essenzialmente come profilo di interventi. E quindi è un lavoro molto serio, molto positivo. A De Vincenti abbiamo dato un compito non facile perché concretizzare e stare alla guardia del tesoro. abbiamo detto, nel campionato si fa il precampionato con quelle squadre più facili. Mi ha detto, la prima la giochi subito in trasferta, De Luca. Quindi avete sentito il presidente della regione dire no, siamo riusciti a fare un buon lavoro. Immaginate come è stata la vita di De Vincenti in queste ultime settimane. E alla fine è un accordo che vale 10 miliardi di euro. La novità, lo ha detto De Vincenti, lo ha detto il presidente De Luca, è che è un accordo concretamente verificabile gli uni dagli altri. Ma non soltanto la regione che controlla lo Stato e lo Stato che controlla la regione, ma i cittadini. E su questo io vorrei spendere una parola con gli amici della stampa, della televisione, dei siti, con i giornalisti. Perché questo è un punto fondamentale. La trasparenza dell'impegno e la certezza dei tempi consente una verifica. Cioè cosa sta accadendo? Diciamolo con uno slogan. È finito il tempo in cui si buttavano via i fondi europei. Con questo metodo il controllo costante da parte delle istituzioni e da parte dell'opinione pubblica attraverso il prezioso lavoro della stampa consentirà di controllare voce per voce. Capitolo per capitolo. E allora i protagonisti di questo accordo non sono soltanto il presidente della regione e il presidente del Consiglio. Ma sono, li voglio ringraziare e salutare, innanzitutto le donne e uomini che collaborano con il presidente De Luca, a partire dal vicepresidente della regione, tra l'altro il tifoso della Fiorentina, e oggi ha un valore particolare. Perché noi ci proveremo. Un'impresa che mi sembra molto complicata, ma ci proveremo. I consiglieri regionali, che voglio ringraziare, la struttura di staff che collabora con il presidente De Luca. Per quello che riguarda il governo voglio ringraziare non soltanto il sottosegretario De Vincenti, il sottosegretario Migliore, ma anche le deputate e i deputati che sono qui presenti, le senatrici e i senatori che sono qui presenti, che sono articolazione dello Stato e che sono sicuramente in prima linea a lavorare in questa direzione. Come pure i deputati europei che sono qui, ringrazio anche loro, perché nella gestione di un rapporto diverso con i fondi europei hanno un prezioso ruolo anche loro. Dunque è finito il tempo in cui i denari si buttavano via. C'è un'immagine simbolica che è quella di Pompei, in cui il lavoro non soltanto è partito ma va avanti. Il 28 di aprile si apre il centro visite. È una realtà straordinaria, con immagini. Chi ha visto la mostra inaugurata qualche giorno fa al Tempio di Iside e sul rapporto più complessivamente tra Egitto e Pompei, che già è partita al Museo Egizio di Torino, altro luogo che sta facendo risultati straordinari, si rende conto di come tutte le volte che si va a Pompei c'è qualcosa di nuovo. Ed è un fatto meraviglioso. 28 aprile il centro visite, il 14 maggio una sorpresa preziosa per l'inaugurazione della mostra di Igor Mitorai e costantemente il lavoro di spesa dei denari europei. Ma non è soltanto Pompei. L'hanno detto molto chiaramente sia Claudio che Enzo, è un lavoro che riguarda molti capitoli che sono assolutamente cruciali e che, io condivido totalmente il giudizio del Presidente De Luca, costituiscono la risposta di medio-lungo periodo alla emergenza criminalità. perché se tu crei le condizioni per un maggiore investimento e finalmente la spesa dei denari pubblici e quindi di conseguenza la creazione di posti di lavoro, se tu offri un'occasione, un'opportunità sul territorio, se tu sei nelle condizioni di dare una risposta che non sia episodica, stai dimostrando che la politica ha un senso. Vorrei essere chiaro su questo. Ho parlato questa mattina con il Ministro dell'Interno, è disponibile nella prossima settimana a partecipare di nuovo a un tavolo in Prefettura per dare il senso della vicinanza e della presenza delle istituzioni e per verificare insieme tutto ciò che può essere ulteriormente fatto. Da parte mia nei prossimi minuti, insieme al Presidente De Luca, al Prefetto, incontreremo alcune realtà del Rione Sanità. Noi siamo assolutamente convinti che ci sia bisogno di una presenza solida e non episodica da parte di tutte le istituzioni, tutte, nessuna esclusa. Nel dire questo dico anche che se vogliamo uscire dall'emergenza occorre avere quello sguardo che il Presidente De Luca ha sintetizzato in modo egregio, lo sguardo capace di abbracciare le sfide di questa regione, le sfide di questa città. E allora, io un anno fa, di questi tempi, in un momento un po' complicato, dissi che De Luca, Presidente, lo dissi, devo dire, a onor del vero, da esponente politico, da segretario del mio partito, mi perdonerete se cito un precedente partitico anziché istituzionale, ma dissi che con la presidenza di De Luca la Campania avrebbe smosso il PIL dell'Italia, non della Campania. Non era una frase a effetto, tant'è che non la riprese praticamente nessuno, ma è una frase della quale sono assolutamente convinto, perché ho visto quello che il Presidente De Luca, l'allora Sindaco De Luca, ha fatto a Salerno in termini di investimenti e di lavori. Tra l'altro andremo, dopo l'incontro con i rappresentanti del Rione Sanità, a visitare in anteprima la stazione marittima, anche perché era una data che avevamo concordato con una grandissima personalità del mondo dell'architettura e della cultura, come Zadid, che purtroppo, come sapete, è mancata in queste ultime settimane. Domani la cerimonia a Salerno diventa la prima grande occasione di tributo mondiale che viene data a questa straordinaria architetta. Però noi abbiamo un impegno internazionale che è arrivato all'ultimo tuffo, che è l'impegno di Hannover con il Presidente Obama, la Cancelliera Merkel, il Presidente Hollande e il Primo Ministro Cameron, per cui ovviamente io sarò, dopo le celebrazioni all'altare della patria, parto alle nove per Hannover, ma andiamo comunque a vedere la stazione marittima, che è una delle tante opere che è stata realizzata, ed ha il senso di quello che può essere. Allora concludiamola così. C'è un elenco di cose da fare. C'è scritto chi le fa come e quando. Nell'elenco di cose da fare, nel chi le fa come e quando, c'è il senso di una politica che finalmente sblocca i ritardi e sblocca le opere pubbliche che sono cruciali. In alcuni casi sono anche opere private, ma hanno un ruolo pubblico. Perché è del tutto evidente che se tu riesci a rimettere in moto pezzi di economia, fai un servizio pubblico alla tua gente. Sono convinto oggi più di ieri che la nuova presidenza della regione Campania debba smuovere il PIL dell'Italia, non soltanto di questa regione. Nel dirlo, ovviamente, vorrei non sembrare troppo attento alle questioni economiche o economicistiche. C'è un senso di grande riscatto oltre a questo. C'è il senso di un Paese che è orgoglioso delle bellezze che ha e smette di sprecare opportunità. È quello che abbiamo cercato di fare con l'Expo, è quello che cerchiamo di fare con la Salerno Reggio Calabria, è quello che cercheremo di fare con i viadotti in Sicilia. Il primo lo riapriamo sabato prossimo. È quello che stiamo cercando di fare in tutti i posti di questo meraviglioso Paese. Permettetemi di dire che la Campania, per la sua forza, per la sua qualità, per le sue anche difficoltà che possono essere superate, è simbolo e emblema di un Paese che riparte. Dunque, concludendo, patti per il Sud, non chiacchiere. Impegni, tempistica, soldi da spendere. L'atteggiamento da sindaci. Mi permettete di dire questa espressione? C'è qualche sindaco anche in sala. L'atteggiamento da sindaco. I lavori da fare, non tranti discorsi, non grandi analisi e dissertazioni dotte su quello che deve essere fatto e che poi non si fa. C'è anche una pregevole opera di introduzione al masterplan fatta dal professor De Vincenti. Non vorrei adesso sminuire il valore accademico del masterplan. C'è una preziosa e importante opera di De Vincenti a cappello e a introduzione del lavoro. Poi però c'è la parte più da sindaci, alla quale peraltro ha collaborato anche in modo fondamentale il sottosegretario De Vincenti che si è tolto la casacca da professore per mettere quella da sindaco ad onore. E nel fare l'elenco completo delle opere una straordinaria opportunità per i cittadini per controllare. Questi soldi sono soldi che venivano buttati via. Adesso è finito il tempo in cui l'Italia spreca le proprie ricchezze, spreca le proprie opportunità, spreca le proprie possibilità. dalla Campania, oggi 24 aprile, la prima sigla dei 15 patti per il Sud. I 13 che sono pronti li firmeremo, gli altri 12 che sono pronti, li fermeremo uno alla settimana più o meno. Quindi vedrete che ci sarà un fiorile di patti per il Sud. Speriamo che anche gli ultimi due che mancano possano vedere i responsabili istituzionali finalmente mettersi a un tavolo e discutere con noi. le nostre porte sono sempre aperte e credo che sia fondamentale. Manca soltanto la città di Napoli e la regione Puglia, poi per il resto siamo a posto. Le altre sono la città di Bari, che è pronta, la città di Taranto, la città di Reggio Calabria, la città di Catania, la città di Palermo, la città di Cagliari e le regioni che è il Mezzogiorno, quindi tutte le regioni del Sud, più Abruzzo e Sardegna. Questo così vi ho detto anche quali sono in modo tale che... non abbiamo messo Salerno, perché De Luca non voleva. Per vi dovete togliere Salerno, no. La priorità è Napoli, quindi capite? L'abbiamo registrato, però purtroppo non possiamo produrlo, perché... Detto questo, nelle prossime settimane vedrete un lavoro analogo a quello, però permettetemi di nuovo il grazie a Claudio e a Enzo. è un lavoro molto serio, lo vedrete, ed è anche il modo con il quale noi mettiamo la faccia e il nostro onore a garanzia di questo impegno. Per noi onore è una parola bella, una parola positiva, sta in carta costituzionale, è uno degli articoli della carta costituzionale. Mettere il nostro onore a garanzia di questo impegno significa che finalmente si fa sul serio e che l'epoca degli sprechi in questo Paese la mandiamo in soffitta, rottamiamo gli sprechi e iniziamo finalmente a fare le cose sul serio a partire dal mezzogiorno. Adesso, con sommo gaudio, firmiamo questo meraviglioso patto e poi credo che sarà distribuito, se non è già distribuito, ai giornalisti, in modo tale che possano prendere visione di tutti i singoli impegni. Grazie a tutti. Grazie. Presidente, abbiamo condito una terra che è un'azienda leader del nostro territorio. Ci sembrava bene della terra. Ci sembrava, sì, è un'eccellenza di questo territorio, ci sembrava giusto che il fatto di assurdo fosse firmato con un'eccellenza del nostro territorio. Bravissimo. Grazie a tutti.